Copyright. Good if the luck. Io e te. Nenu maryu nuvvu. Noi due. Mana iddaram. Lui. Atanu. Lui e lei. Atanu maryu ame. Loro due. Var iddaru. L'uomo. Porushudu. La donna. Stri. Il bambino. Pillavadu. Una familia. Kutumbam. La mia familia. Naa kutumbam. La mia familia è qui. Naa kutumbam. Ikkadu vundi. Io sono qui. Nenu ikkadu vundnanu. Tu sei qui. Nuvvu ikkadu vundnavu. Lui è qui e lei è qui. Atenu ame ikkadu vundnavu. Noi siamo qui. Mee mu ikkadu vundnavu. Voi siete qui. Mee ru ikkadu vundnaru. Tutti loro sono qui. Nenu ikkadu vundnavu. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 languages. Due. Rendu. La familia. Kutumbasabhiulu. Il nonno. Taataya. La nonna. Bama, nainamma, ammamma. Lui e lei. Atenu maryu ame. Il padre. Nana, tandri. La madre. Atenu maryu ame. Atenu maryu ame. Il figlio. Koduku. La figlia. Kuturu. Lui e lei. Atenu maryu ame. Il fratello. Atenu maryu ame. Annaia. La sorella. Acca, celli, soderi. Lui e lei. Atenu maryu ame. Lo zio. Babai, maavaiya. La zia. Atenu maryu ame. Atta, pinni. Lui e lei. Atenu maryu ame. Noi siyamu una famiglia. Mee mannta, vakko kutumppam. La famiglia non è piccola. Kutumppam, cinnadi kādu. La famiglia è grande. Kutumppam, peddadi. Copyright. Good if you're luck. Fifty languages. Un audiocorso gratuito in numerose lingue. Tre. Muru. Pare la conoscenza. Pari ceyam. Ciao. Namaskar. Buongiorno. Namaskaram. Come va? Mere yala unnaaru. Viene dall'Europa? Mere Europe nundi vocchara? Viene dall'America? Mere America nundi vocchara? Viene dall'Asia? Mere Asia nundi vocchara? In quale hotel all'alloggia? Mere e hotel lo basa cestunnaaru? Da quanto tempo è qui? Da quanto tempo è qui? E' in vacanza? Mere. E' in vacanza? Ci vediamo domani? Mi dispiace, ho già un impegno. Ciao! Sellevu. Arrivederci. Inca sellevu. A presto! Ma lì che lo diamo. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 Languages Quattro Nalugu A scuola Dove siamo? Manam yekkadu unnāmu? Siamo a scuola. Manam paatt saallelo unnāmu. Abbiamo lezzione. Questi sono gli studenti. Vali è una scuola. Questa è l'insegnante. Questa è la classe. Adi taragati. Che cosa facciamo? Manam yehm cestun nāmu? Studiamo. Manam nereccu kundun nāmu. Io studio l'inglese. Nenu ingleshi nereccu kundun nānu. Tu studi lo spagnolo. Nuvvu spanish nereccu kundun. Lui studia il tedesco. Atenu german nereccu kundun. Noi studiāmu il frančese. Manam french nereccu kundun. Voi studiāte l'italiāno. Loro studiāno il russo. Vāllu ršyan nereccu kundāru. Studiāre una lingua è interessante. Vāsjallu nereccu kovadam vucca hakaranga unđundi. Vogliamo capire la gente. Vogliamo parlare con la gente. Vāsjallu nereccu kundun nāmu. 50 languages. 5 Paesi e lingue Dēsālu mariju bhāshalu. John è di Londra. John London nūnči vocciādu. Londra si trova in Inghilterra. London Great Britain lo undi. Lui pārla inglese. Ātanu ingleshi maatlađu tādu. Maria è di Madrid. Maria Madrid nūndi voccindi. Madrid si trova in Spagna. Madrid spainlo undi. Lei parla spagnolo. Āme spainish maatlađtundi. Peter e Marta sono di Berlino. Peter mariju mārdha. Berlin nūndi vocciāru. Berlino si trova in Germania. Berlin germanīlu undi. Parlate tedesco voi due? Mi riddarū german mātlađagalara. Londra è una capitale. London pattenam vokca dēsa rājadāni. Anche Madrid e Berlino sono capitali. Madrid mariju Berlin pattenālu kūda dēsa rājadāni. Le capitali sono grandi e rumorose. Dēsa rājadāni lēna pattenālu pēddeviga mariju sandediga unđtāi. La Francia si trova in Europa. France Europe lū undi. L'Egitto si trova in Africa. Egypt Africa lū undi. Il Giappone si trova in Asia. Japan Asia lū undi. Il Canada si trova nell'America del Nord. Canada buttenā amerikālo undi. Il Panama si trova nell'America centrāle. Panama madhya amerikālo undi. Il Brasile si trova nell'America del Sud. Brazil dakšina amerikālo undi. 50 Languages 50 Languages 6 6 6 Leggere e skrīvere Cedavadum mariju vrājadum Ijo leggo. Nēnu cedavutānu. Ijo leggo una lettera. Nēnu vokāksharam cedavutānu. Ijo leggo una parola. Nēnu vokā padānnī cedavutānu. Ijo leggo una frāse. Nēnu vokā vākjiannī cedavutānu. Ijo leggo una lettera. Nēnu vokā lekhanī cedavutānu. Nēnu vokā pustakānnī cedavutānu. Ijo leggo. Nēnu cedavutānu. Tu leggi. Nuvvu cedavu. Lūj legge. Ātanu cedavutādu. Ijo scrivo. Nēnu vrāstānu. Ijo scrivo una lettera. Nēnu vokāksharam ni rāstānu. Ijo scrivo una parola. Nēnu vokā padānnī vrāstānu. Ijo scrivo una frāse. Nēnu vokā vākjiannī rāstānu. Ijo scrivo una lettera. Nēnu vokā vuttārāni rāstānu. Ijo scrivo un libro. Nēnu vokā pustakāni rāstānu. Ijo scrivo. Nēnu rāstānu. Tu scrivi. Nuvvu rāi. Peach. Lūj scream. Àthanū rāstādu. Fifty languages. Sette Iedu Numeri Ankelu Io conto Nenu lecca pedetanu Uno Due Tre Io conto Finu a tre Nenu Moodu vargu Lecca pedetanu Continua Contare Nenu Dhanu Tharavata Lecca pedetanu Quattro Cinque Sei Nalugu Aidu Aaru Sette Ottu Nove Iedu Iedu Ienimidi Tommididi Io conto Nenu lecca pedetanu Tu conti Nuvu lecca pedetu Lui 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 Conta Atenu Lecca pedetanu Uno Il primo Vokketti Vokketti Modetiddi Due Il secondo Secondo Rendu Rendavadi Tre Il terzo Moodu Moodavadi Quattro Il quarto Nalugu 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 Nalugavadi Cinque Il quinto Aidu Aidavadi Sei Il sesto Aderel 6 Millennium Parto Di Parto 50 Languages Che ora è? Per favore? Che ore sono? Per favore? Grazie mille È l'una Sono le due Sono le tre Sono le quattro Sono le cinque Sono le sei Sono le sette Sono le otto Sono le nove Sono le die Sono le undici È mezzogiorno È mezzanotte Un minuto 14 24 yere 50 Languages 9 90 I giorni della settimana Varanloni rojalu Il lunedì Sommavaram Il martedì Mangalavaram Il mercoledì Budhavaram Il giovedì Guruvaram Il venerdì Sucra varam Il sabato Senni varam La domenica Adi varam La settimana Varam Dal lunedì Ad domenica Sommavarannundi Adivaram varakku Il primo giorno è il lunedì Modetti roju Sommavaram Ottundi Il secondo giorno è il martedì Rendova roju Mangalavaram Ottundi Il terzo giorno è il mercoledì Mooda varogu Budhavaram Il quarto giorno è il giovedì Nalaga varogu Guruvaram Ottundi Il quinto giorno è il venerdì Aida varogu Aida varogu Sucra varam Ottundi Il sesto giorno è il sabato Aira varogu Senivaram Ottundi Il settimo giorno è la domenica Aida varogu Aida varogu Aida varam Ottundi La settimana ha sette giorni Varanlo Aida varogu Aida varogu Noi lavoriamo solo cinque giorni Ma nan kevelam Aida varogu Aida varogu Aida varogu Aida varogu 50 languages 50 languages 10 10 Ieri Oggi Domani Ninnna Eroju Repu Ieri Era Sabato Ninnna Senivaram Iindi Ieri Sono stato Al cinema Ninnna Ninnna Nenu Cinema Il film Era Interessante Cinema Calla Aasakti Karanga Oggi È Domenica Eroju Adivaram Oggi Non Lavoro Ieri Nenu Paniccetam Ledu Resto A casa Nenu Intloni Untunnanu Domani È Lunedì Repu Somovaram Domani Lavoro Di Nuovo Repu Nenu Malli Panicestanu Lavoro In Ufficio Nenu Office Lo Panicestanu Chi è? Aena Iavaru È Peter Aena Peter Peter È uno Studente Peter Vokaviddiardi Questa Chi è? Ame Ame Marta Marta È Una Segretaria Marta Vok Secretary Peter E Marta Sono Amici Peter Mario Marta Snehitulu Peter È L'amico Di Peter Marta Snehitulu Marta È L'amica Di Peter Marta Peter Snehituralu 50 50 Languages To Part Undici Padakundu Mèzi Nelelu Gennaio Gennavari Febbraio February Marzo March Aprile April Maggio May Giugno June Questi sono sei mesi. Ivi orunnerlo Gennaio, febbraio, marzo January, febbraio, marci Aprile, maggio e giugno April, May, June Luglio Julai Agosto August September September Ottobre October Novembre November Dicembre December Anche questi sono sei mesi. Ivi kuda Arunnerle Luglio Agosto Settembre Julai August September Ottobre Novembre Dicembre October November December 50 50 Languages 50 Languages Io Io Bevo Te Nenu Tea Tagu Tainu Io Bevo Caffè Nenu Coffee Tagu Tainu Io Bevo Acqua Minerale Nenu Mineral Water Tagu Bevi Bevi Il Te Con Il Limone Mineru Tee Lo Nimma Kae Kalupkunu Tagu Tara Bevi Il Caffè Con Lo Zucchero Mineru Coffee Lo Cekker Kalupkunu Tagu Tara Bevi Acqua Con Ghiaccio Mineru Nillello Ice Ves Kuni Tagu Tara Qui C'è Una Festa Ikkada Vakka Party Gjargu Tondi La Gente Beve Prosecco Manushu Champagne Tagu Tundna La Gente Beve Vino E Birra Bevi Alkolici Meeru Madhyam Tagu Tara Bevi Whisky Meeru Whisky Tagu Tara Bevi Coca Cola Con Il Rum Meeru Koklo Rum Kalupkunu Tagu Tara Non Mi Piace Il Prosecco Naku Champagne Ishten Ledu Non Mi Piace Il Vino Naku Naku Vain Ishten Ledu Non Mi Piace La Birra Naku Beer Ishten Ledu Al Al Bambino Piace Il Latte Sissu Bambino Piacciono La Cioccolata E Il Succo Di Mela P P P P P P P Alla Donna Piacciono La Spremuta D'Arancia E Il Succo Di Pompelmo Streeki Naringja Mariyu Pampar Panas And Taste 50 Languages Threadici 13 Attività Panu Che Cosa Fa Marta Marta E Panicest Undi Lavora In Ufficio Ame Vok Office Lo Panicest Undi Lavora Al Computer Ame Computer Panicest Undi Dov'è Marta Marta Eccad Undi Al Cinema Cinema Theater Vadda Guarda Un Film Ame Vok Cinema Chooz Tho Andi Che Cosa Fa Peter Peter Ehm Panicest Thadu Studia All Universita University Studia Lingue Studia Lingue Dov'e Peter Peter Ekked Purn Albar Al bar Cafe Beve un caffè Atenu coffee thaguttun'nàđu Dovve gli piaccia andare? Vallakki, eccđđik e veledam ishtum? Ai concerti Gana kacceri l'o Gli piaccia ascoltare la musica Vallakki, sangeetem virenda vantte ishtum Dovve non vannu volintieri? Vallakki, eccđik e veledam ishtum uundadu? Indiskotheca Discoki Non gli piacce ballare Vallakki, natcho maratam ishtum leedu Copyright Go to Thalak Fifty Languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue Quattordici Padnalago Colori Rangulu La neve è bianca Manchu tellaga unttundi Il sole è giallo Suryadu pasuppacchaga unttadu L'arancia L'arancia è arancione Naringia 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 rangulo unttundi La ciliegia È rossa Cerri Irrega unttundi Il cielo È azzurro Acasam Nilenga unttundi L'erba È verde La terra È marrone La nuvola È grigia Le ruote Sono nere Di che colore è La neve Bianca Manchu Eerangulo Unttundi Teluppu Di che colore è Il sole Giallo Suryadu Eerangulo Unttadu Pasuppu Paschaga Di che colore è L'arancia Arancione Naringia Eerangulo Unttundi Naringia rangu Di che colore è La ciliegia Rossa Cerri Eerangulo Unttundi Eruppu Di che colore è Il cielo Azzurro Acasam Eerangulo Unttundi Nelam Di che colore è L'erba Verde Gadddi Eerangulo Unttundi Acupaccia Di che colore è La terra Marrone Di che colore è La nuvola Grigia Mabbu Eerangulo Unttundi Gacchaka Di che colore sono Le ruote Nere Visita il sito www.book2.de www.book2.de Per il libro E per i testi 50 Languages Quindici Padihenu Frutti E generi alimentari Io ho una fragola Io ho un kiwi E un melone Io ho un kiwi E un melone Io ho un arancia E un pompeelmo Io ho una meela E un mango Nata Nata Voddha 1 apple Mariju 1 mariju 1 mali Poundu Unnait Io ho una banana E un ananas Nata Voddha 1 ariti Poundu Mariju 1 ananas Unnait Io Preparo Una Macedonia Io mangio un toast con burro e marmellata. Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro. Abbiamo bisogno di pane e riso. Abbiamo bisogno di pesce e bistecche. Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Dove troviamo un supermercato? Supermarket è qui? 50 languages. 16 Stagioni e tempo Queste sono le stagioni. La primavera L'estate L'autunno e l'inverno D'estate Fa caldo Grishman D'estate D'estate c'è il sole Grishman D'estate ci piace andare a passeggio. Mehmu Sugihman D'estate 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 D'inverno, nevica o piove. D'inverno, preferiamo restare in casa. Fa freddo. Piove. D'inverno, è sereno. Che tempo fa oggi? D'inverno, è sereno. D'inverno, è sereno. Diciassette. Padihedu. A casa. In ticiotto. Ecco la nostra casa. Sopra c'è il tetto. Sotto c'è la cantina. Dietro la casa c'è un giardino. Davanti alla casa non c'è nessuna strada. Inti mundu vidhi ledu. Vicino alla casa ci sono degli alberi. Inti paccana c'etle unn'ai. Ecco il mio appartamento. Naa appartment ikkada unndi. Ecco la cucina e il bagno. Vontagadi mario snanaragadi ikkada unn'ai. Lì ci sono il salotto e la camera da letto. Living room mario padakattillu accadu unn'ai. La porta è chiusa. Mundu talpu musu undi. Ma le finestre sono aperte. Kani ikkittikilu tercci unn'ai. Oggi fa caldo. Iroju vediga undi. Noi andiamo in salotto. Miiem living room kii veltun'naamu. Lì ci sono un divano e una poltrona. Akkada vok sofa mario vok kurči unn'ai. Si sieda. Dai c'è sei kurči undi. Lì c'è il mio computer. Akkada na computer undi. Lì c'è il mio stereo. Lì c'è il mio impianto stereo. Akkada na studio undi. Il televisore è nuovo di zecca. TV set sarikottadi. Fifty languages. Diciotto. Paddenimi di. Pulizie di casa. Inti pari subrata. Oggi è sabato. Iroju senivaramo. Oggi abbiamo tempo. Iroju ma vadda samayam mundi. Oggi puliamo l'appartamento. Iroju me apartmentni subrancestun'naamu. Io pulisco il bagno. Nenu snanalagadini subrancestun'naamu. Mio marito pulisce la macchina. Ma srivaru carni kadugutun'naamu. Iroju. 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 Dove sono i bicchieri? Dove sono le stoviglie? Dove sono le posate? Hai un'apri scatole? Hai un'apri bottiglie? Bottle-ni tericce paricaram? Hai un'apri scatole? Fai bollire la zuppa in quella pentola? Quoce il pesce in quella padella? Quoce la verdura su quella griglia? Io preparo la tavola Nenu ballani sadduttunnanu Ecco i coltelli, le forcette e i cucchiai Cutthulù forkulù mario spoonllù ikkada unnai Ecco i bicchieri, i piatti e i thvaglioli Glansulù platellù mario napkins ikkada unnai 50 Languages Si accomodhi Faccia come a casa sua Che cosa desidera da bere? Le piace la musica? Mi piace la musica classica Ecco i miei cd Ivi nana seedilu Suona uno strumento? Miiru eidena sangeitha vaithi annyi vaithi stara? Ecco la mia guitarra Ivi nana guitarru Le piace cantare? Miikku padadadam manntte istima A figli Miikku pillelu unnara A un cane Mi vadda kukka unnada A un gatto Mi vadda pilli unnada Ecco i miei libri Ivi nana pustakalu Sto leggendo questo libro Prastudum nenu Ii pustakani c'adu tunnanu Che cosa le piace leggere? Miiri iemi c'adavalanan kut tunnaru Va volentieri al concerto? Miiku gana sabalok velet Mr. Mena Va volentieri a teatro? Miiku nantaka salako velet Mr. Mena Va volentieri all'opera? Miiku sangeitha salako velet Mr. Mena 50 Languages Ventuno Iravai yokati Small talk Chiacchere due Cinna sambhashna rendu Da dove viene lei? Di dov'è? Da Basilea Di Basilea Basilea si trova in Svizzera Basilea si trova in Svizzera Le posso presentare il signor Muller? Nenu Sree Muller Garni Meeiku pari c'en c'è yalan Kut tunnanu Lui è straniero Aena videse ilu Parla diverse lingue Lui è qui per la prima volta? Lui è qui per la prima volta? No ci sono già stato l'anno scorso Ma solo per una settimana Come si trova da noi? Meeiku ikkadu nacchinda? Molto bene La gente è gentile Ed anche il paesaggio mi piace Qual è la sua professione? Meeiku jen c'è struun tàru? Sono traduttore Nenu anuvaadakuduni Anuvaadakurralini Traduco libri Nenu pustakalani anuvaadisthanu È solo, sola, qui? No, c'è anche mia moglie Mio marito Ledu, nà bharia Nà bhartha Ikkade unnàru E quelli sono i miei due figli Mariyu, aahidderu, nà pillelu 50 languages Venti due Irevai rendu Small talk Chiacchiere Tre C'è anche i miei due figli C'è anche i miei due figli C'è anche i miei due figli Nenu pogatākudde Mee k ee mēnna ibbbanda? No, affattu Ledu Assal ledu Non mi disturba Adinākku i bbandi kallighincedu Beve qualcosa? Mee ri jēmēnna tragu tāra? Un cognac? Vakabrandi? No, piuttosto una birra Vaddu Vīle i te vakabīr Lei viyajja molto? Mee ri jekuuga prayāni stāra? Sì, di solito sono viyajji di affāri Avunu, jekuuga vyaāpārani mittam Ma adesso siamo in vacañca Kaani ipadu meemu selavallu unnāmu Che aafa? Enta vedaigavundi? Sī, oggi fa veramente caldo Avunu, īrojiu cālā vediga ondī Andiamo fuori sul balcone Padandī, vasāralokī veldāmu Domani cē una festa Rēpū, ikkada vaka pārttī vundī Ci viene anche lei? Mīru kūda vassunnāra? Sī, anche noi siamo invitāti Avunu, Meehmalli kūda āfā nī cāruu 50 languages Ventitrē Iravai mūdu Studiare le lingue straniere Vīdēsī pāršalini nērči kovadam Dove hai imparato lo spagnolo? Mīru spaniš ekkadu nērči kundnāru Sā anche il portoghēse? Mīru portoghēse kūda mātlađagalara? Sī, e so anche un po' d'italiano Avunu, ālāge nēnu italianni kūda mātlađagalnu Trovo che lo parla molto bene Mīru cālā bāgā mātlađattārani nēnānu kundnānu Le lingue sono piuttosto simili Rijesko a capirle bene Nēnu vītini bāgāne ārthan cēs kogalanu Ma parlaare e skrivere è difficile Kāni, mātlađadam maryu brāyadam kastam Faccio ancora moltti errori Nēnu īnkā čālā tappuļu cēssu nē unnānu Per favore, mi corregga sempre La sua pronuncia è molto buona Mī vuccārana čālā bāgundi Lei ha un leggero accento Mīru cēvulum svelpā vuccārana tō mātramē mātlađu tūnnāru Si puō capire da dove viene Qual è la sua madrilingua? Frequenta un corso di lingue? Mīru bhaščakē sammanninčena īvēna Pāťyakramāl neđškūntu nāra Che libri di testo utilizza? Mīru īpustakāni upyoghi stu nāru? In questo momento non ricordo come si chiama Ippuđu nāku ādāni pēru gurttu lēdu Non mi viene in mente il titolo Dāni sīrshakā nākku gurttu rāvotem lēdu L'ho dimenticato Nēnu dāni mārči pōi ānum Fifty languages Venti quattro Iravai nālugu Appuntamento Samāvesam Hai perso l'autobus? Mī bus veldi pōi īndā Ti ho aspettato per mezz'ora Nēnu mī koraku āraganta nerekshinčānu Non hai con te un cellulāre? Mī vaddha mobile phone lēđā? La prossima volta Sī puntuale Lā prossima volta Prendi un taxi Lā prossima volta Prendi un ombrello Domani sono libero Rēpū nāku sēlāvundi Ci vediamo domani? Mānān rēpū kallu dāma? Mī dispiācē Domani non posso Kshemīn cendī Rēpū nēnu rālēnu Hai già programmi Per questo fine settimana? Io propongo di vederci questo fine settimana. Facciamo un picnic? Andiamo in spiaggia? Andiamo in montagna? Ti passo a prendere in ufficio. Ti passo a prendere a casa. Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus. Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus. 25 In città Vorrei andare all'aeroporto. Vorrei andare all'aeroporto. Vorrei andare in centro. Qual è la strada per la stazione? Qual è la strada per l'aeroporto? Qual è la strada per il centro? Ho bisogno di un tassì. Mi serve una piantina della città. Mi serve una piantina della città. Mi occorre un albergo. Vorrei noleggiare una macchina. Ecco la mia carta di credito. Ecco la mia patente. Cosa c'è da vedere in città? Vada nel centro storico. Faccia un giro della città. Vada al porto. Vada al porto. Faccia un giro al porto. Vada al porto. Quali attrazzioni turistiche ci sono ancora? Ivi kaka. A sakti karmena pradese sallu inka unnaya. 50 languages. 26. 26. Nella natura. Prakrutilu. Vedi quella torre lì? Mi ruakkada a buruggini ci Strombu. Vedi quella montagna lì? Mi ruakkada a parvatanni ci Ci Strombu. Vedi quel villaggio lì? Mi ruakkada a grama di ci Strombu. Vedi quel fiume lì? Mi ruakkada a nadini ci Strombu. Vedi quel ponte lì Vedi quel lago lì Questo uccello qui mi piace Quest'albero qui mi piace Questa pietra qui mi piace Questo parco qui mi piace Questo giardino qui mi piace Questo fiore qui mi piace Lo trovo carino Lo trovo interessante Lo trovo meraviglioso Lo trovo brutto Lo trovo noioso Lo trovo orribile Nākwadi bhaeng karenga nipistondi FIFTY LANGUAGES 27 27 27 In hotel Arrivo Hotelllō āgamanam Hā una camera libera Mi waddha Vakha khālia ghti vunda Ho πrenotato una camera Nenņu vakha gadani Mundhuga cudurcukunnānu Mi chiamo Müller Nā peru Miller Ho bisogno di una camera singola. Ho bisogno di una camera doppia. Quanto costa la camera a notte? Vorrei una camera con bagno. Ho bisogno di una camera con doccia. Posso vedere la camera? C'è un garage qui? C'è una cassaforte qui? C'è un fax qui? Icqueda fax machine unda? Bene, prendo la camera. Sari, nēnù gadri thiesi kundi anu. Ecco le chiavi. T'a l'a l'u ikkeda unn'ai. Ecco i miei bagagli. Nā sāmanu ikkeda vundi. A c'è ora c'è la colazione? Miru e samayaanikki breakfast istaru? A c'è ora c'è il pranzo? Miru e samayaanikki lunch istaru? A c'è ora c'è la cena? Miru e samayaanikki dinner istaru? Fifty languages. VENTOTTO GORU VECCET NILU RAVADAN LEDU. Può farla riparare? Miru dani bagu c'è incegallara? Nella stanza non c'è il telefono. GADILO TELEPHON LEDU. Nella stanza non c'è il televisore. GADILO TELEPHON LEDU. La stanza non ha la terrazza. GADILO TELEPHON LEDU. Nella camera c'è troppo rumore. GADILO TELEPHON LEDU. La camera è troppo piccola. GADILO TELEPHON LEDU. GADILO TELEPHON LEDU. Il riscaldamento non funziona. L'aria condizionata non funziona. Il televisore è guasto Questa non mi piace Questa è troppo cara Avete qualcosa di più economico? C'è un ostello della gioventù qui vicino? C'è una pensione qui vicino? C'è un ristorante qui vicino? C'è un ostello della gioventù qui vicino? È libero questo tavolo? Vorrei il menù, per favore Che cosa mi può raccomandare? Miro d'è nì sifar suggeztharu? Vorrei una birra Vorrei una minerale Vorrei un'aranciata Vorrei un caffè Vorrei un caffè Vorrei un tè al limone Vorrei un tè con latte Vorrei un tè con latte Ad accendere Mi vaddà di pomunda Mi manca una forchetta Nà vaddà forculedu Mi manca un coltello Nà vaddà ciàculedu Mi manca un cucchiaio Nà vaddà spunledu Nà vaddà spunledu Un succo di mela Per favore Una limonata Per favore Un succo di pomodoro Per favore Vorrei un bicchiere di vino rosso Vorrei un bicchiere di vino bianco Vorrei una bottiglia di spumante Ti piace il pesce? Ti piace il manzo? Ti piace la carne di maiale? Vorrei qualcosa senza carne Vorrei un piatto di verdura Vorrei un piatto veloce Vorrei un piatto veloce Lo vuole con le patate? Meku danni Bangala tumpalto Kalipitura da Mr. Mena Questo non mi piace Adiyanta Il cibo è freddo Il cibo è freddo Annam cellar poindì Questo non l'ho ordinato io Nenu di nini Order Cheyye leedu 50 languages Trentuno Al ristorante tre Vorrei un'antipasto Vorrei un'insalata Vorrei una minestra Vorrei un dessert Vorrei un gelato con panna Vorrei della frutta o del formaggio Vogliamo fare colazione Vogliamo pranzare Vogliamo cenare. Che cosa volete a colazione? Panini con marmellata e miele? Toast con salumi e formaggio? Un uovo sodo? Un uovo all'occhio di bue? Una frittata? Ancora uno yogurt, per favore. Ancora sale e pepe, per favore. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. Maracqua glass mancinelli e bbandi. 50 Languages 32 Muppai rendu Al ristorante 4 Restorant vadda, nalugu Una porzione di patatine con ketchup Naku chips, french fries, ketchup to cavali. E due porzioni con maionese Alage, rendu maionese cavali E tre porzioni di salsiccia con senape Inca, modu sausage la mustard to cavali Che verdure avete? Mi vadda yee kuragail unnai? Avete fagioli? Mi vadda cikkullu unnai? Avete cavol fiore? Mi vadda cali flower unnda? Mi piace molto il mais Mi piacciono molto i cetrioli Mi piacciono molto i pomodori Mi piacciono anche a lei i crauti Mi piacciono anche a lei le lenticchie Mi piacciono anche a te le carote Mi piacciono anche a te i broccoli Mi piacciono anche a te i peperoni Mi piacciono anche a te i peperoni Mi piacciono le cipolle Mi piacciono anche a te i peperoni Nākho mushroom l'antè iston l'eadu. 33 Muppai mùđu Instazione Quando parte il prossimo treno per Berlino? Quando parte il prossimo treno per Parigi? Quando parte il prossimo treno per Londra? London c'è il prossimo treno per Varsovia? A che ora parte il treno per Varsovia? A che ora parte il treno per Stoccolma? Stockholm c'è il treno per Budapest? Budapest c'è il treno per Treno per Treno per Treno per Treno? A che ora arriva il treno a Vienna? A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Amsterdam? Treno per Treno per Treno per Treno per Treno per Treno per Treno? A che ora arriva il treno per Treno? Solo andata per Bruxelles? Nako Brussels ki one-way ticket cavali Solo ritorno per Copenaghen Nako Copenhagen ki return ticket cavali Quanto costa un posto nel vagone letto? Sleeper lo birth dharajanta? Treno per 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 T È questo il treno per Berlino? Quando parte il treno? Quando arriva il treno a Berlino? Scusi, mi fa passare. C'è mince, non c'è nessuno? Credo che questo sia il mio posto. Credo che lei sia seduta al mio posto. Dov'è il vagone letto? Il vagone letto è in coda al treno. E dov'è il vagone ristorante? In cima al treno. Quando arriveremo alla frontiera? Quanto dura il viaggio fino a Berlino? Berlino è in ritardo il treno? È in ritardo il treno? Ha qualcosa da leggere? Si può avere qualcosa da mangiare e da bere. Mi potrebbe svegliare alle sette? Nannu 7 ganttadukki l'eppagal guuttara? 50 languages 35 All'aeroporto? Vorrei prenotare un volo per Atene. È un volo diretto? Adi direct flight Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori. Vokka window seat smoking c'è e kodendi. Vorrei confermare la mia prenotazione. Vorrei annullare la mia prenotazione. Vorrei cambiare la mia prenotazione. Quando parte il prossimo aereo per Roma? Romki, next flight, eppudu? Ci sono ancora due posti liberi? In car, rendu seat le unnna, ya? No, abbiamo solo un posto libero. Lev, kevalam, vokka seat maatramem undi. Quando atterriamo? Manam eppudu digutamu? Quando arriviamo? Manam eppudu c'erukuntamu? Quando parte l'autobus per il centro? City center chi, vassi eppudu veltundi? È sua questa valigia? Adi mi suit case? È sua questa borsa? Adi mi bag? E' suo questo bagaglio? Adi mi saamana? Quanto bagaglio posso portare? Nienu ente saamana ti iskallaccio? 20 kg 20 kg Come? Solo 20 kg? 50 languages 36 Muppai aaru Trasporti pubblici Paura ravana Dov'è la fermata dell'autobus? Bus stop eccada Quale autobus va in centro? City center chi, ebbas vedtundi? Che linea devo prendere? Nienu ebbas ekkali? Devo cambiare? Nienu marala? Dove devo cambiare? Nienu ekkada marali? Quanto costa un biglietto? Ticket ki, ente dharapattaccio? Quante fermate ci sono, fino in centro? Downtown, city center kante, mundu, enni stop l'unnai? Deve scendere qui Mieru ikkada digali Deve scendere dietro La prossima metropolitana Arriva fra cinque minuti Next train Aydini michallo undi Il prossimo tram Passa fra dieci minuti Next tram Padini michallo undi Il prossimo autobus Passa fra quindici minuti Next bus Next bus Padhihen niimshallo undi Quando parte l'ultima metropolitana? Aakhari train Eppi du undi? Quando parte l'ultimo tram? Aakhari tram Eppi du undi? Quando parte l'ultimo autobus Aakhari bus Eppi du undi? Ha il biglietto Mi vadda ticket Unda? Il biglietto No, non ce l'ho Ticket Allora deve pagare la multa Aite miru Gerimana Kattali Fifty languages Trentasette Muppei iedu In viaggio Dovalo Lui va in motocicletta Atenu motorbike Naduputadu Lui va in bicicletta Atenu cycle Toccutadu Lui va a piedi Atenu nadustadu Lui va con la nave Atenu vodolo veltadu Lui va in barca Atenu botlo veltadu Lui nuota Atenu iedu tadu È pericoloso qui? Ikkeda Pramadam mundah È pericoloso fare l'autostop da soli È pericoloso passeggiare da soli di notte Ci siamo persi Memu dare tappi Abbiamo sbagliato strada Memu wrong road lo veltunnamu Dobbiamo tornare indietro Dove possiamo parcheggiare? Bandini Ikked ekked 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 park c'è Eccu C'è un parcheggio? Ikked ekked ekkedina bandini park c'è Pradeesam mundah? Per quanto tempo si può lasciare la macchina Parcheggiata? Ikked bandini Ente seppo park c'è broke Lei sciia? Mì rù sking chest Sàle con lo ski lift Paechi velli and kù Mi rù ski lift Si posso non so legg Suchi? Ikked ski lù adde Adi ga ti skovacci 50 Languages 38 Muppa i animidi In taxi 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 lo Mi chiami un taxi, per favore Taxi Quanto costa fino alla stazione? Quanto costa fino all'aeroporto? Sempre diritto, prego Qui giri destra, per favore All'angolo, giri a sinistra, per favore O fretta Ho tempo Vada più piano, per favore Si fermi qui, per favore Aspetti un momento, per favore Ritorno subito Mi dia la ricevuta, per favore Non ho spiccioli Va bene così Il resto è per lei Mi porti a questo indirizzo Mi porti al mio albergo Mi porti alla spiaggia Samudrati iraniki Tiskeldendi Copyright Copyright Good if the luck 50 languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue 39 Muppai tommidi Guasto alla macchina Dov'è il prossimo distributore di benzina? Next petrol bank Eccadavundi? Ho bucato Può cambiare la ruota? Mi occorrono alcuni litri di gasolio Ho finito la benzina Ha un bidone di riserva? Mi vada petrol can Jerry can Gas can vunda Dov'è posso telefonare? Nen phone Yekkadu nundi c'esko vaccio Ho bisogno di un autosoccorso Nākù toying sahayeng kāvāli Cerco un officina Nenu garage e kosam vietu kutunnanu C'è stato un incidente Vakha pramadam sambha vinci indi Dov'è il telefono piu' vicino? Daggarlo telefon yekkadu nundi Ha un cellulare Mi vada mobile phone kāni unna ya? Ci occorre aiuto Mākù sahayeng kāvali Chiami un medico Docturni pilavandi Chiami la polizia 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 ni pilavandi I documenti per favore Mi paper lu ivvandi La patente per favore Mi license ivvandi Il libretto di circolazione Il libretto di circolazione per favore Mi registrēsion chuupinciendi Visita il sito www.book2.de www.book2.de Per il libro E per i testi 50 languages Quaranta Nalabhai Chiedere indicazioni Mi scusi Mi puō aiutare? C'è un buon ristorante Da queste parti? Qui all'angolo Giri a sinistra Poi segua dirittto Per un po Tharuwaata Quontza dūrum Neru ga vellendi Dopo cento metri Giri a destra Aapai Vondza mītr lakku Kudu veipuku Theragandhi Puō anche Prendere L'autobus Mīru Buss lho Kuda vellacciu Puō anche Prendere Il tramvīa Il tram Mīru Tram lho Kuda Vellacciu Puō anche Seguirmi In macchina In macchina Mīru Mīru Kārlo Nā vene kāla Kuda Rāvacciu Come arrivo Allo stadio Nenu Football Stadium Ki jela Vellali Attraversi Il ponte Vantennani Dāti Vellendi Passi Il tunnel Tannel Lōnci Vellendi Segua Fino Al terzo Semāforo Prenda La prima Strada A destra Akkada Mī kudibai Punna Molletti Vidhlokhi Terugendi Poi Al prossimo Incrocio Continui Diritto Appudu Next Chaurassanondi Neruga Vellendi Scusi Come arrivo All'aeroporto Chemin Chendi Vimana Sraianiki Jela Vellali È meglio Se prende La metropolitana Mīru Subway Underground Nundi Velladum Mancidi Arrivi Fino All'ultima Fermata Akkari Stop Vadda Baita Gurendi Fifty Languages Quarantuno Nalabhai Bokati Orientamento Yekkad Vundi Dove Si Trova Lente Per Il Turismo Pariyat Ka Samachar Kari Yalayam Yekkad Vundi A Una Pianta Della Città Per Me Mī Veddha Nā Kosam Puk City Map Vundi Si Può Prennotare Una Camera Qui Ikkadu Nuncī Yavaray Nā Gadini Bukcci Vajccia Dov'è Il Centro Storico Pátanagaram Yekkad Vundi Dov'è Il Duomo Ciorc Yekkad Vundi Dov'è Il Museo Dov'è Si Possono Comprare Dei Francobolli Dov'è Dov'è Possono Comprare Dei Fiori Dov'è Si Possono Comprare Dei Biglietti Ticket Dov'è Dov'è Porto Vodere Vu Dov'è Il Mercato Market Dov'è Il Castello Porto Stop Quando Comincia La Visita Guidata Parietta che parli tedesco. Vorrei una guida che parli italiano. Vorrei una guida che parli francese. FIFTY LANGUAGES QUARANTA DUE VISITA DELLA CITTA NAGARA DARSENAM E' aperto il mercato la domenica. ADIVARM MARKET TERCI VUNTUNDA E' aperta la fiera il lunedì. SOMA VARALU SANTALU TERCI VUNTAIA E' aperta l'esposizione il martedì. MANGAL VARALU PRADERSEN SAALU TERCI VUNTAIA E' aperto lo zoo il mercoledì. BUDHA VARALU GENTO PRADERSEN SAALU TERCI VUNTAINDA E' aperto il museo il giovedì. GURU VARALU MUSEUM TERCI VUNTAINDA E' aperta la galleria il venerdì. GURU VARALU CHITRA SAALU TERCI VUNTAINDA E' PERMESSO FOTOGRAPHARE Yavarina FOTOLU TISKO VACCHA SI DEVE PAGARE L'INGRESSO Yavarina PREVESERUSUMU CELLINCHAALA QUANTO COSTTA L'INGRESSO PREVESERUSUMU DHARA YENTA C'è UNO SCONTO PER GRUPPI GUMPULUGA VELTE DISCOUNT YEDENA VUNDA C'è UNO SCONTO PER BAMBINI PILLLELEKKI DISCOUNT YEDENA VUNDA C'è UNO SCONTO PER STUDENTI DI CHE EDIFICIO SI TRATTA QUANDO E' STATO COSTRUITO QUESTO EDIFICIO CHI L'HA COSTRUITO A BHAVANTHINI YAVAR KATTINCHAARU MI INTERESSO DI ARCHITETTURA NAKO BHAVANAN NIRMANA SASTRAM ANTTE ISTAM MI INTERESSO DI ARTE NAKO KALAL ANTTE ISTAM MI INTERESSO DI PITTURA NAKO CITRLEKHANAM ANTTE ISTAM FIFTY LANGUAGES QUARANTHATRE NALAPHAI MOODU ALLOZZO GENTU PRADARSANA SAALA VADDDA LII C'È LO ZO Lì ci sono le giraffe Dove sono gli orsi? Dove sono gli elefanti? Dove sono i serpenti? Dove sono i leoni? Io ho una macchina fotografica Io ho anche una telecamera Dove trovo una batteria? Battery eccadu durukuttundi? Dove sono i pingwini? Penguinllu eccadu unnai? Dove sono i kanguri? Kangaru eccadu unnai? Dove sono i rinoceronti? Rainolu eccadu unnai? Dove sono i servizi? Marugugadhi eccadu unnai? Lì c'è una caffetteria Lì c'è un ristorante Dove sono i cammelli? Vontelu eccadu unnai? Dove sono i gorillal e le zebra? Gorillalu eccadu unnai? Dove sono le tigri eccadu unnai? Pullullu lu mosallu eccadu unnai? 50 Languages 44 Nalabhai innalego Uscire la sera C'è una discoteca qui vicino? C'è un locale notturno qui vicino? C'è una taverna qui vicino? Cosa c'è stasera a teatro? Cosa c'è stasera al cinema? Cosa c'è stasera alla televisione? Ci sono ancora biglietti per il teatro? Ci sono ancora biglietti per il cinema? Ci sono ancora biglietti per la partita? Voglio sedermi proprio in fondo Voglio sedermi in un posto al centro Voglio sedermi in prima fila Che cosa mi puoi consigliare? Quando cominciamo lo spettacolo? Pradessana eppure and the other? Can you buy a biglietti? Can you buy a biglietti? Can you buy a biglietti? C'è un campo da golf qui vicino? C'è un campo da tennis qui vicino? C'è una piscina qui vicino? C'è una piscina qui vicino? Al cinema Vogliamo andare al cinema Oggi danno un bel film Il film è appena uscito Dov'è la cassa? Where are the cash register? Ci sono ancora posti liberi? Seat Quanto costano i biglietti? Lopal e vengu vengu e ticket Le dharai e'nthavu'ndi? Quando cominciamo lo spettacolo? Ata eppure Modalavu'tu'ndi? Quanto dura il film? Si possono riservare dei biglietti? Io vorrei sedermi dietro Io vorrei sedermi davanti Io vorrei sedermi al centro Il film è stato emozionante Il film non era noioso Cinema visugga ledu Ma il libro su cui si basa il film era meglio Kaani e' e' postekampai adharpadi I cinema ti ibadindu adi c'ala bhaugundi Com'era la colonna sonora? Music e'lla undi? Com'erano gli attori? Nutty netu'llu'yella unnaru? C'erano i sottotitoli in inglese? Indilo English subtitle unna, ya? Fifty Languages Quaranta-sei Nala bhai aaru In discoteca Disco-lo È libero questo posto? E seat lo intak munupai yavarena unnara? Posso sedermi accanto a voi? Nenemi daggara kuccio vaccha? Volentieri Tappakunda Li piace questa musica? Miku music nacchinda? È un po' troppo forte Ma il complesso suona bene Viene spesso qui No, è la prima volta Non ci ero mai stato Nenemi intak munupu Eppure ikkadi ikkir aledhu Balla Mere dance ya stara? Forse più tardi Taruvat cjuddam Non so ballare molto bene Nenu antabaga dance Nenu antabaga dance se ye leno È molto semplice Adi c'ala suluvu Glielo faccio vedere Glielo insegno io Nenu c'ho pistanu No, forse un'altra volta Vaddu Mare eppadena cjuddam Sta aspettando qualcuno? Mere inke avari kwasamena Edru chussunna ra? Sì Il mio amico Avonu Nase nè Hittidi kosa Eccolo Kivieri Adigo Adinu Vocchi Saru Fifti Languages Non devi dimenticare nulla. Non devi dimenticare il passaporto. Non devi dimenticare il biglietto. Non devi dimenticare gli assegni turistici. Non devi dimenticare il biglietto. Non devi dimenticare il biglietto. Vuoi portarti una cartina stradale? Vuoi portarti una guida? Vuoi portarti un ombrello? Non dimenticare i pantaloni, le camicce e i calzini. Non devi dimenticare le cravate, le cinture e le giacche. Non devi dimenticare i pigiami, le camicce da notte e le magliette. Hai bisogno di scarpe, sandali e stivali. Hai bisogno di fazzoletti di carta, sapone e del tagliaunghie. Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio. Non devi dimenticare il biglietto. Non devi dimenticare i miglietti di coi. Copyright. Goethe for luck! 50 Languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue. Quarantotto Attività in vacanza È pulita la spiaggia? Si può fare il bagno? Non è pericoloso fare il bagno lì Si può noleggiare un ombrellone? Si può noleggiare un asdraio? Si può noleggiare una barca? Mi piacerebbe fare windsurf Mi piacerebbe fare immersione subacquea Mi piacerebbe fare dello sci nautico Si può noleggiare un ombrellone? Si può noleggiare un attrezzatura per sommozzatori? Si può noleggiare un ombrellone? Si può noleggiare un ombrellone? Sono di livello medio Dov'è la scio via? Hai portato gli sci? Hai portato gli scarpponi da sci? Mi badda schi botlu vunna, ya? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 Languages 49 Nalabhai tommidi Sport Aatelu Fai dello sport? Sì, devo fare del movimento Vado in una società sportiva Giochiamo a calcio Qualche volta nuotiamo Oppure andiamo in bicicletta Nella nostra città c'è uno stadio Ma a pattenenllo Vokka football Soccer stadium C'è anche una piscina Con la sauna Vokka swimming pool Sauna E c'è un campo da golf E c'è un campo da golf Contro quella inglese German wallu jettu England wallato Aatutondi Chi vince? Iaber gelistunnaru Non ne ho idea Nāku teli edu Al momento sono pari Prasthudum iidi tai ai indi L'arbitro viene dal Belgio Referee Belgium desastudu Adesso c'è un rigore Ippudu voka penalti ai indi Gol 1 a 0 Goal, vokati sunna 50 Languages Cinquanta Ya bhai In piscina Swimming pool Oggi fa caldo Iroju c'alla vediga undi Andiamo in piscina? Manan swimming pool ki veldama? Ai voglia di andare a nuotare? Mie kuu ee th kottalani uundda? Ai un asugamano? Mie vaddha tundu uundda? Ai un costume da bagno da uomo? Mie vaddha ee th kottet dhustil uundnaya? Ai un costume da bagno da donna? Mie vaddha ee voddha snana nche seraput dhari nche dhustil uundnaya? Sai nuotare? Mie kuu ee th kottetam vaccha? Sai andare sottacqua? Mie kuu dive chedam vaccha? Sai tuffarti in aqwa? Mie kuu nilalok dhokadam vaccha? Dov'e la doccha? Shower yekka'du uunddi? Dov'e lo spogliatoio? Battaloo marchukunay gaddi yekka'du uunddi? Dov'e sono gli occhialini? Eta kottet appudu dhari nche addaloo yekka'du uundnaya? E fonda l'acqua? E pulita l'acqua? E calda l'acqua? E calda l'acqua? Nilu chala challaga unnaya? Iyo ora esko dall'acqua? Epppudu nenu nilu nilu nundi baitiko vass thunnanu? Cinquantuno Ia bhai vokkati? Fare spese Konugolu cedam? Voglio andare in biblioteca Naa kuu grandhaalayaaniki vellalani vunddi Voglio andare in libreria Naa kuu pustakaara dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio andare alledicola Naa kuu samachara patrariu amme dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio prendere in prestito un libro Naa kuu kuu pustakaam aruutesu kovalani vunddi Voglio comprare un libro Naa kuu kuu pustakaam konnalani vunddi Voglio comprare un giornale Naa kuu kuu samachara patram konnalani vunddi Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro Naa kuu pustakaam aruutesu kovalani vunddi Voglio andare in libreria per comprare un libro Naa kuu pustakaasaala dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio andare alledicola per comprare un giornale Naa kuu pustakaala dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio andare dall'ottico Naa kuu kalladdaal taiarice seibyakti vaddak vellalani vunddi Voglio andare al supermercato Naa kuu supermarketi ke vellalani vunddi Voglio andare dal fornaio Naa kuu bakery ke vellalani vunddi Voglio andare dagli occhiali Voglio andare dagli occhiali Naa kuu woka kallagiodu konnalani vunddi Voglio andare dagli occhiali Voglio comprare frutta e verdura Naa kuu pallu kurega elni konnalani vunddi Naa kuu kuu pustakaala dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali Naa kuu kalladdaal dukkanaaniki vellalani vunddi Voglio andare dal supermercato per comprare frutta e verdura Pallu kuu kuregael konnalani vunddi Naa kuu supermarketi ke vellalani Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane Rolls Mario bread konnalani vunddi Naa kuu bakery ke vellalani Fifty languages Cinquantadue Yabhai rendu Al centro commerciale Department store lo Andiamo in un centro commerciale? Devo fare spese Nenu shopping ke vellalani Voglio fare molti acquisti Naa kuu cyaala shopping ce iya alani vunddi Dove sono gli articoli da ufficio? Kariyaali e saamagriki sammandhi ncina sappleilu yekkadu unnāi? Ho bisogno di un armada Ho bisogno di buste e carta da lettere E di un stadio e di un komo Naa kuu vok kappula almaara mariu Sorugulu unna vaka almaara kāvalli Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale Dove sono i giocattoli? Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto Ho bisogno di un pallone e degli scacchi Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Ho bisogno di un martello e di pinze Ho bisogno di un trapano e di un cacciatore Dov'è la gioielleria? Ho bisogno di una collana e di un braccialetto Ho bisogno di un anello e di orecchini 50 Languages 53 Negozi Cerchiamo un negozio di articoli sportivi Cerchiamo una macelleria Cerchiamo una farmacia Infatti vogliamo comprare un pallone Infatti vogliamo comprare del salame Infatti vogliamo comprare delle medicine Cerchiamo un negozio di articoli sportivi per comprare un pallone Football Cerchiamo una macelleria per comprare del salame Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine Cerchiamo una farmacia per comprare delle medicine Cerchiamo una gioielleria Cerchiamo un fotografo Cerchiamo un fotografo Cerchiamo una pasticceria Cerchiamo una pasticceria Infatti ho intenzione di comprare un anello Infatti, ho intenzione di comprare un rullino. Infatti, ho intenzione di comprare una torta. 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 Vorrei comprare un regalo. Ma niente di troppo caro. Forse, una borsetta? Di che colore? Nera, marrone o bianca? Una grande o una piccola? Posso vedere un po' questa? È di pelle? O è di materiale sintetico? Di pelle, naturalmente. Questa è di ottima qualità. E la borsetta è veramente a un buon prezzo. Questa mi piace. La prendo. Posso cambiarla eventualmente? Naturalmente. Naturalmente. Facciamo un pacco regalo. La cassa è da quella parte. 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 Lavorare. Lavorare. Pani. Che lavoro fa? Mio marito è medico. Lavoro come infermiera part-time. Presto andremo in pensione. Ma le tasse sono alte. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. Cosa vorresti fare? Io vorrei diventare ingegnere. Io voglio studiare all'università. Io sono praticante. Non guadagno molto. Faccio un tirocinio all'estero. Questo è il mio capo. Ho dei colleghi gentili, simpatici. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. A mezzogiorno andiamo. Cerco un posto di lavoro. Sono disoccupato da un anno ormai. In questo paese ci sono troppi disoccupati. 50 languages. 50 languages. 56 non abbiamo voglia. Non abbiamo voglia. Aver paura. Naa. Non ho paura. Non ho paura. Non ho paura. Non ho paura. Naa. 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 Vissugga unduta Lei si annoia Lei non si annoia Aver fame Avete fame? Non avete fame? Aver sete Loro hanno sete Loro non hanno sete Vali kì dà hanga le dù 50 languages 57 Ya bhai edu Dal dottore Doctor Vadda Ho un appuntamento dal dottore Ho l'appuntamento alle 10 Come si chiama? Per cortesia Si accomodi nella sala d'attesa Il dottore arriva subito Doctor Darilo unnaru Che assicurazione ha? Mìru e bheema company Sammannincinavaru? Che cosa posso fare per lei? Nenu mìku E'n c'è egalnu? Prova dei dolori? Mìku e meina Noppi unnda? Dove le fa male? Eccadu noppi ga unndi? Ho sempre dolori alla schiena Maldi schiena Nanko eppudu Nalun noppi ga unndi? Ho spesso mal di testa Nanko taracciu Talu noppi ga unndi? Qualche volta Ho mal di pancia Nanko appud appudu Kaluppu lo noppi ga unndi? Per favore Si metta a torso nudo Koddika miru Mì paina vesukunna Battalli tiendi? Si sdrai sul lettino Per cortesia Dai cesi Parikshuna balapai padukkondi La pressione E' a posto Mì raktapedo Le faccio un'injezione Le prescrivo delle medicine Le prescrivo una ricetta per la farmacia Manduilu shop Manduilu qonitakku Nenu meeku Vak manduilu Cheetti Istana 50 languages 50 languages Parti del corpo Io disegno un uomo Nenu vaka magamanišu bambag istunnanu Prima la testa Modata Tala L'uomo indossa Un cappello A maniši Vaka topi Pettukoni unnaadu Non si vedono I capelli Evvaru A maniši Giuttunii Ciudeleru Non si vedono Neanche Le orecchie Alage A maniši Cevalli Kuda Evvaru Ciudeleru Non si vede Neanche La schiena Adevi Dhanga A maniši Vipunu Kuda Evvaru Ciudeleru Io Dizegno Gli occhi E la bocca Nenu Kallu Mariyu Nōtini Ghistunnanu L'uomo Balla E Ride Maniši Nerttishtunnanadu Mariyu Navvu Tunnanadu L'uomo Aiil Nasu Lungo A maniši Vokk Vokk Podugātti Mukku Undi Lui A in Manu Un Bastone Lui Indossa Anke Una Sharpa Intorno Al Kollo L'uomo L'uomo E' Fatto Di Neve A maniši Non indossa Né pantaloni Né cappotto Né soprabito Ma L'uomo Non ha Freddo Kāni A maniši Celi Gaddak Kodrikku Pohledu E Un Pupazzo Di Neve A Tannu Vokk Snowman Fifty Languages Cinquantanove Ya bhai Tommi Di Alle Poste Tapala Kāriya Laiyam Dov'è La Poste Più Vicina Daggerlo Tapala Kāriya Laiyam Yekkadu Undi È Lontana Alla Poste Tapala Kāriya Laiyam Yekkadu Nundi Entudurum Dov'è La Prossima Bucca Delle Lettere Daggerlo Poste Dabba Yekkadu Undi Mio Corrono Alcuni Francobolli Nākū Konni Stampul Kābāli Per Una Cartolina Ed Una Lettera Vokka Postcard Mariyu Utteran Koruku Kānto Kosta Un Francobollo Per L'Amerika Amerikāki Posteji Dharayyanta Quanto Kānto Pesā Pesā Questo Pacco Packet Ente Baru Undi Posso Spedirlo Per Posta Aerea Nēnu Dāni Eir Mail Dhuāra Pampaccia Quanto Ci Mette Ad Arrivare Akkadike Cerukavudanikī Ente Samajem Patta Ciu Dove Posso Telefonare Nēnu Ekkad Noncī Fon Cēs Kovaciu Dovē La Prossima Cabina Telefonica Daggerul Telefon Booth Ekkad Undi A Carte Telefoniche Mī Vaddha Calling Codlu Unnāya A Un Elenco Telefonico Mī Vaddha Telefon Directory Vunda Sā Il Prefisso Per L'Austria Mī Kū Austriākī Eri A Kodiyent Hotel Sā Un Momento Che Guardo Vokkhanim Šum Nēni Cvustānu La Līnā E Sempre Occupata Lāyini Eppudu Biziigāne Unntundi Che Numero Ha Fatto Mīru E Nembar Khi Dial Cēsāru Deve Fare Prima Lo Zero Mīru Modetta Sunnāne Dial Cējāli Fifty Languages Sessanta Aravai In Banca Bank Vardha Vorrei Aprire Un Conto Nēni Vokkhan Ekkon Tere Vālan Kuntun Nanu Ecco Il Mio Passaporto Idhi Gondi Nā Passport Ed Ecco Il Mio Indirizzo Mariu Idhi Nā Ciru Nā Ma Vorrei Fare Un Versamento Sul Mio Conto Nēni Nā Ekkon Lo Dabbon Giamacējālānkūtunāno Vorrei Fare Un Prelievo Dal Mio Conto Nēnuna Ekkon Ndai Dabbon Tisko Vālankūtunāno Vorrei Ritirare L'estratto Conto Nēnun Bank Statement Nētisko Vālankūtunāno Vorrei Incassare Un Assegno Vorrei Incassare Un Travel Nēnū Tramilis Čkni Cash Rūpānlō Tisko Vālan Kuttunāno Quantē La Tariffa Rūsum Uyentta Dove Devo Firmare Nēnū Santakum Ekkadu Cējāli Sto Aspettando Un Bonifico Dalla Germania Nēnū Germani Nundi Transfer Vostun Dani Edru Čustunāno Ecco Il Mio Numero Di Conto Edi Gondi Nā I Cont Nembba Sono Arrivati I Soldi Dabbu Vocci Nda Vorrei Cambiare Questi Soldi Nēnū Dabbu Nī Marciālānu Kuttunānu Mi Occorrono Dollari USA Nākū US Dollar Kāvali Perfavore Mi Dīā Banconote Di Piccolo Taglio Dāy Cēsī Nākū Cillari Ebba Galera Cē Un Bancomat Qui Ikkade Yekkade Na Cash Point ATM Wunda Quale Somma Si Puō Prelevare Vokkā Sārika Yentad Abbonu Tijaciu Quali Carte Di Credito Si Accettano Yē Yē Credit Kaurle Nī Vādacchiu Fifty Languages Sessantūno Aravai Vokkati Numeri Ordinali Kramasankhya Il Primo Mese È Gennaio Gennavarī Modatī Nela Il Secondo Mese È Febbraio Febbravarī Rendavanela Il Terzo Mese È Marzo Marci Mūdavanela Il Quarto Mese È Aprile Epril Nalugavanela Il Quinto Mese È Maggio Mē Aidavanela Il Sesto Mese È Giugno Giùn Āravanela Sei Mese Sono Mezzo Anno Āru Nel Lukal Si Ardha Sam Vatser Mautundi Gennaio Febbraio Marzo Gennavarī February March Aprile Maggio È Giugno April May June Il Settimo Mese È Luglio Giùlai È Davanela L'ottavo Mese È Agosto August È Davanela Il Nono Mese È Settembre Settembre Tommi Davanela Il Decimo Mese È Ottobre Octobre Padavanela L'undicesimo Mese È Novembre Novembar Padakandonella Il Dodicesimo Mese È Dicembre Dicembre Pannendonella Un Anno A Dodici Mesi Pannendonella Nerellu Kallissi Vokka Sambatserum Ottundi Luglio Agosto Settembre Giùlai August Settembre Ottobre Novembre E Dicembre Octobre Novembar Mariu Dicembre Fifty Languages Sessantadue Aravai Rendu Fare Domande Uno Presnelu Aragatam Vokkati Imparare Studiare Nerec Kovadam Gli allievi Studiano Molto Vidyarthilu Eccuvoga Nerec Kondunna No Studiano Poco Ledu Valu Koddigane Nerec Konduntaaru Chiedere Adagatam Chiede Spesso All'insegnante Mìru Taracciu Mìa Dhyapakudini Presnel Adaguttu Ntara No Non Gli Chiedo Spesso Ledu Taracciu Nenu Aynni Presnel Adaganu Rispondere Samadhanam Ibbandi Risponda Per favore Dai Cesi Samadhanam Ibbandi Io Rispondo Nenu Samadhanam Isthanu Lavorare Panicce Lui Sta Lavorando Aynni Ippudu Panicce Stunnar Sì Sta Lavorando Avun Ippudu Panicce Stunnar Venire Ravadam Viene Mìru Vostunnar Sì Vengamo Subito Avunu Mèmu Tondar Lone Vostunnamu Abitare Vundetam Abita A Berlino Mìru Berlino Vuntara Sì Abito A Berlino Avunu Nenu Berlino Vuntanu Fifty Languages Sessantatre Aravai Moodu Fare Domande Due Presnull Ađagatam Rendu A Unnobbi Nākū Vak Abhiru Choo Undi Joko A Tennis Nenu Tennis A A Tennis Nenu Football Soccer Ađatanu Dov'è il campo da calcio Football Soccer Maidhanam Yekkadavundi Mi fa male il braccio Nākū Nākū Bhuja Noppiga Undi Mi fanno male anche il piede e la mano Nāpādam maryu c'è i kuda noppiga unnai C'è un dottore? Docter Unnara Ho la macchina Nā vadda Car Undi Io ho anche una moto Nā vadda Motorcycle Kuda Undi Dov'è trovo un parcheggio? Nenu Yekkadu Park C'è nu? Ho un maglione Nā vadda Vak Sweater Undi Io ho anche una giacca E un paio di jeans Nā vadda Vak Jocket Maryu Vak Jetta Jeans Kuda Undi Dov'è trovo una lavatrice? Washing machine Yekkadu Undi Io ho un piatto Nā vadda Vak Kancham Undi Io ho un coltello Una forchetta Una forchetta E un cucchiaio? Nā vadda Vak Ciacu Vak Fork Maryu Vak Spoon Kuda Undi Dov'è sono Sale E Pepe? Vuppu Maryu Mirjiaalapodi Ekkadu Unnai Sessanta Sessantaquattro Aravai Naga Negazione Uno Nirakarana Non capisco Questa parola Nā ku ā padam Ardhan Kaavadan Ledu Nā ku ā padam Non capisco La frāze Nā ku ā vākjiam Ardhan Kaavadan Ledu Non capisco Il significato Nā ku Dāni Ardham Ardhan Kaavadan Ledu L'insegnante Adhyaa Pakkuđu Capisce L'insegnante Adhyaa Pakkuđu Sì Lo capisco Bene Aravunu L'insegnante Capisce l'insegnante? Sì, la capisco bene La gente Capisce l'insegnante? No, non la capisco molto bene L'amica La ragazza Snehituralu Sì, c'è l'ho La figlia Quturu A una figlia Mèkku Quturu unda? No, non neo L'eadu, nākku Quturu leadu Copyright Good if a luck Fifty languages Un audiocorso gratuito in numerose lingue Sessantacinque Arabai aïdu Negacione Due Nirakarana Rendu Eccarola Nello Chethi Vungaram Kharii Dhe No Kosta Solo Cento Eur L'eadu L'eadu Dini Dharak Khevelam Vak Vand Yurol Matram Ma Io Nello Solo Cinquanta Kani Navadda Khevelam Yabhai Matram Uundi Sei Pronto Nidhi Aipo Inda? No Non Ancora L'eadu Eincka Abba L'eadu Sono Pronto Fra Un Momento Kani Tondor L'eadu Aipo Tundi Vorresti Ancora Della Minestra Miki Yunk Konta Sub Kavala No Non Ne Voglio Più Voddu Nako Inka Voddu Ma Ancora Un Gelato Kani Inko Kais 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 Abiti Kui Da Tanto Tempo Mere Ikkali Ekkoo Kalam Unnara No Solo Da Un Mese L'eadu Keevalam Vokan Nel Ma Conosko Già Molta Gente Kani Naki Ippadik Chala Mandi Manushu Tho Parc Iim Undi Vai A Casa Domani 7 Anni Ledu Danikki Keevalam Padihede Ma Lei Ha Già Un Amico Kani Danikki Ippadik Keevokas Ne Ittidu Unna Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 Languages Sessanta 66 Aravai Aru Pronomi Possessivi Uno Sambandha Bodak Sarvan Amalu Vokati Io Il Mio La Mia Neno Nadi Naa Non Trovo La Mia Chiave Naa Kuna Taalallu Kanabarutte Ledu Non Trovo Il Mio Biglietto Naa Kuna Ticket Kanabarutte Ledu Tu Il Tuo La Tua Nuvvu Miru Nidhi Midi Hai Trovato La Tua Chiave Mee Taalallu Migo Kanabaddaya Hai Trovato Il Tuo Biglietto Mee Ticket Migo Kanabadinda Lui Il Suo La Sua Atenu Ateni Di Sai Dov'è La Sua Chiave Ateni Taalam Ekkadu Migo Telsa Sai Dov'è Il Suo Biglietto Ateni Ticket Yekkadu Vundo Migo Telsa Lei Il Suo La Sua Ame Amedhi Il Suo Denaro È Sparito Amedabbu Poindhi E Anche La Sua Carta Di Credito Non C'è Più Mariu Ame Credit Card Kuda Poindhi Noi Il Il Nostro Manamu Mana Il Nostro Nonno È Malato Man Tata Garikki Vuntlo Baal Edu La Nostra Nonna Sta Bene Man Bama Nayanamma Ammamma Kula Saga Undi Voi Il Vostro Nuvvu Mieru Nidhi Midhi Bambini Dov'è Il Vostro Papa Pillel Mee Nanagari Eccadu Unnáru Bambini Dov'è La Vostra Mamma Pillel Mee Amma Eccadu Undi Fifty Languages Sessantasette Aravai Edu Pronomi Possessivi Due Sambandha Podheka Sarvanámalu Rendu Gli Occhiali Lui Ha Dimenticato I Suoi Occhiali Ma Dove Sono I Suoi Occhiali Loro Orologio Gadi Il Suo Orologio È Rotto Occhiali 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 T Flexi instantag Occhiali New 50 Languages Grande e piccolo L'elefante è grande Il topo è piccolo Scuro e chiaro La notte è scura Il giorno è chiaro Giovane e vecchio Nostro nonno è molto anziano 70 anni fa era ancora giovane Bello e brutto La farfalla è bella Il ragno è brutto Grosso e magro Una donna di 100 kg è grassa Un uomo di 50 kg è magro Caro e non caro Costoso e non costoso La macchina è costosa Il giornale non è caro Il giornale non è costoso 50 Languages 69 Aravai tommidi Aver bisogno Volere Avasaram Avasaram Kavali Ho bisogno Di un letto C'è un letto C'è una lampada qui C'è una lampada qui Ho bisogno Di un telefono Nākavaka telefon Avasaram Nākavaka telefon Avasaram Voglio fare una chiamata Nēnvaka call Cescowali C'è un telefono qui C'è un telefono qui Ikkada telefon Munda Ho bisogno di una macchina fotografica Nākavaka camera Avasaram Voglio fotografare C'è una macchina fotografica qui C'è una macchina fotografica qui Ikkada camera Avasaram Ho bisogno di un computer Nākavaka computer Avasaram Voglio mandare un e-mail Nēnvaka e-mail pampukko vaali C'è un computer qui Ikkada computer Ho bisogno di una penna Nākavaka pen Avasaram Voglio scrivere qualcosa Nēnvaka e-mail pampukko vaali 50 languages 50 languages 70 Deb bhai Aver voglia di qualcosa Ista paradam Le va di fumare? Mīkū poca tragatam ishtamena Le va di ballare? Mīkū dance sedam ishtamena? Le va di fare una passeggiata? Mīkū wākink vēldam ishtamena? Vorrei fumare Nākū poca tragatam ishtamena Vuoi una sigaretta? Mīkū wāk sigaretka avala? Lūī vorrebbe accendere Una sigaretta Ayanikī batti kāvali Vorrei bere qualcosa Nākū jēdō tāggālani vundi Vorrei mangiare qualcosa Nākū jēdō tinnālani vundi Vorrei riposarmi un pò Nākū qoncjam vissrami nčālani vundi Vorrei chiederle una cosa Nākū mimmalni jēdō ađagālani vundi Vorrei chiederle un favore Nākū mimmalni jēdō tinnākū ađagālani vundi Vorrei offrirle qualcosa Nākū mimmalni jēdō tinnākū ađvāni nčārani vundi Desidera, prego Mīkū jēm kāvali Gradisce un caffē? Mīkū kāfī kāvala O preferisce un tē? Lēdā, tī tāgadāni kistā partāra Vorremmo andare a casa Mīmu inti kēm vēldāle nākū tinnāmu Vorreste un tassī? Mīkū tēksī kāvala Loro vorrebbero telefonare Vāllu vokkā kāl cējāle nākū tinnāru Mīkū tinnāru Fifty languages Settantūno Dēbhā i vokkētī Voler qualcosa Jēdō kāvalani anu kovidum Che cosa volete? Mīru jēn cējāle nākū tinnāru Volete giocare a pallone? Mīru fūtbol, sōkkar, āđāle nākū tinnāra Volete andare a trovare degli amici? Mīru tēma sniītunni kāluvāle nākū tinnāra Volere Kāvali Nōn voglio arrivāre in ritārdo Nēnū ālāsyaṅgā rānu Nōn voglio andārči Nēnū ākkadikki vēļļanu Voglio andāre ā kāza Nēnū īntikki vēļļāli Voglio restāre ā kāza Nēnū īntlō vōndāli Voglio essere sōlō Voglio stāre da sōlō Nēnū īokkadiknē uundāli Vuoi restāre quī? Mēru yukkadu uundālani vundā? Vuoi mangiāre quī? Mēkū yukkadu tinnālani vundā? Vuoi dormīre quī? Mēkū yukkadu niddra pōvālani vundā? Vuole partīre dōmāni Mēkū rēpu bellālani vundā? Vuole restāre finō dōmāni Mēkū rēpēti varku vundālani vundā? Vuole pagāre il contō sōlō domāni? Mēkū rēpē bīlni cēllīnčālani vundā? Vuolete andare in discoteca? Mēkū disco ki bellālani vundā? Vuolete andare al cinema? Mēkū cinema ki bellālani vundā? Vuolete andare al bar? Mēkū cafe ki bellālani vundā? FIFTY LANGUAGES Settantadūē Dēbhāi rēndu Dover fare qualcosa? Cējālī, tappakundā Dovere Tappakundā? Devo spedīre la lettera Nēnu tappanisarikā vundārāni post cējālī Devo pagāre l'albergo Nēnu tappanisarikā hotel vāļakki cēllīnčālī Devi alzārtti presto Mērū tappanisarikā tellbārini lēvālī Devi lavoraare molto Mērū tappanisarikā yekkuvopani cējālī Devi essere puntuale Mērū tappanisarikā samayānnī pārtinčālī Lūī deve fare benzina Lūī deve aggiustare la macchina Lūī deve lavare la macchina Aēna kārni su brancējālī Lei deve fare la spesa Ame tappanisarikā konālī Lei deve pulīre la casa Aēna kārni su brancējālī Lei deve lavāre la biancherīā Aēna kārni su brancējālī Dobbiamo andare subito a scuola Aēna kārni su brancējālī Mērū tappanisarikā Aēna kārni su brancējālī 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 Settantatre Dhebhāi mūđu Potere Anumatīncūtta Pwoi jagvidare? Mērū bandi nattapadāni kī anumatīncabadindā Pwoi jabbere ālqoļ? Mērū madjyam sēvīncadāni kī anumatīncabadindā Pwoi jāandāre all'estero da solo? Mērū vantarikā vidēsāliku velledam anumatīncabadindā Potere Essere permesso Cējavaciu Possiamo fumare qui? Mēmī ikkada pogatrāgaccia È permesso fumare qui? Ikkada pogatrāgaccia Si puō pagāre con la kārta di kredito Credit card dwārā cēllīncabadcā Si puō pagāre con un assegno Cēk dwārā cēllīncabadcā Si puō pagāre solo in kontanti Cash dwārā cēllīncabadcā Posso telefonāre un momento? Nēnū vākā call cēscovaccia Posso chiedere qualcosa? Nēnū vākattī āđagaccia Posso dire qualcosa? Nēnū vākattī cēppaccia Nōn puō dormīre al parco Nōn puō dormīre in autō macchina Ātani ki kārlō padukkūvodāni ki anumattī ledhu Nōn puō dormīre in stāzīōne Ātani ki train station lō padukkūvodāni ki anumattī ledhu Possiamo sederci Possiamo avere il menu Possiamo pagare separatamente 50 Languages 74 Chiedere qualcosa Mi può tagliare i capelli? Non troppo corti, per favore Un po' più corti, per favore Può sviluppare le foto? Le foto sono nel CD Le foto sono nella macchina fotografica Può aggiustare l'orologio? Il vetro è rotto La batteria è scarica Può stirare la camicia Può pulire i pantaloni Può aggiustare le scarpe Ha da accendere Ha dei fiammiferi o un accendino? Ha un portacenere? Fuma sigari Fuma sigari Fuma sigarette Fuma la pipa Mi rupai Poi lo stara? Copyright Good if a luck 50 Languages Un audio corso gratuito In numerose lingue 75 Debbai aidu Giustificare qualcosa Uno Perchè non viene? Il tempo è così brutto Non vengo perché il tempo è così brutto Perché non viene? Non è invitato Non viene perché non è invitato Perché non viene? Non ho tempo Non vengo perché non ho tempo Perché non resti? Perché non resti? Devo ancora lavorare Non resti? Non resti perché devo lavorare ancora Perchè già se ne va? Sono stanko. Mene vado perchè sono stanko. Perchè parte già? E' già tardi. Parto perchè è già tardi. E' già tardi. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Perchè non sei venuto? Ero malato. Non sono venuto perchè ero malato. Perchè lei non è venuta? Era stanca. Lei non è venuta perchè era stanca. Perchè non è venuto? Non ne aveva voglia. Non è venuto perchè non ne aveva voglia. Perchè non siete venuti? La nostra macchina è rotta. Non siamo venuti perchè la nostra macchina è rotta. Perchè non sono venuti? Perchè non sono venuti? Perchè hanno perso il treno. Perchè non sei venuto? Perchè non sei venuto? Perchè non sei venuto. Perchè non sei venuto. Perchè non sei venuto. Perchè non sei venuto? Perchè non sei venuto. Perché non bevi il caffè? Non lo bevo perché è freddo. Perché non bevi il te? Non ho zucchero. Non lo bevo perché non ho zucchero. Perché non mangia la minestra? Non l'ho ordinata. Non la mangio perché non l'ho ordinata. Perché non mangia la carne? Non lo bevo perché non lo bevo perché non lo bevo. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. 50 Languages 78 Una donna curiosa Una macchina nuova Una macchina veloce Una macchina comoda Un vestito azzurro Un vestito rosso Un vestito verde Una borsa nera Una borsa marrone Una borsa bianca Una macchina Un vestito Un vestito azzurro Un vestito azzurro GENTE INTERESSANTE, PERSONE INTERESSANTI MANO HARAMAYINA MANUSHALU BAMBINI CARI MUDDHOCCI PILLALU BAMBINI IMPERTINENTI CILIPI COIYA PILLALU BAMBINI BRAVI SADBUDDDIGALA PILLALU FIFTY LANGUAGES SETTANTA NOVE DEBBHAI TOMMIDI AGGETTIVI DUE VISESHANALO RENDU INDOSSO UN ABITO AZZURRO INDOSSO UN ABITO ROSSO INDOSSO UN ABITO VERDE COMPRO UNA BORSA NERA INDOSSO UN ABITO 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 I nostri ospiti erano interessanti. O dei cari bambini. Ma i vicini hanno dei bambini impertinenti. Sono buoni i suoi bambini. Mi pillelu mance pravertene kalighe unnara? 50 Languages Ottanta Aggettivi 3 Visejnalu Lei ha un cane. Ame vadda cucca undi. Il cane è grande. A cucca pedda di. Lei ha un cane grande. Ame vadda vaka pedda cucca undi. Lei ha una casa. Ame vaka illu undi. La casa è piccola. Lui abita in un albergo. L'albergo è a buon mercato. Lui abita in un albergo economico. Ame vaka chavaka hotel. Ame vaka chavaka hotel lo vuntunnaru. Il romanzo è noioso. Lui legge un romanzo noioso. Lei guarda un film. Il film è avvincente. Lei guarda un film avvincente. 50 Languages 81 Passato 1 Scrivere Lui ha scritto una lettera. E lei ha scritto una cartolina. 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 Lui era povero, ma lei era ricca. Lui non aveva soldi, ma debiti. Lui non aveva fortuna, ma sfortuna. Lui non aveva success, ma insuccess. Lui non aveva success, ma insuccess. Ma scontento, ma scontento. Lui non era felice, ma infelice. Lui non era simpatico, ma antipatico. Lui non aveva success, ma scontento. Passato. Due. Hai dovuto chiamare l'ambulanza? Hai dovuto chiamare il medico? Hai dovuto chiamare la polizia? Hai il numero di telefono? Un momento fa ce l'avevo. All'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo. Mi vedda c'è un city map. Naa vedda intokumun pev undi. Ha la pianta della città. Un momento fa ce l'avevo. Mi vedda city map unda. Naa vedda intokumun pev undi. È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale. Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada. Ti capiva? Non riusciva a capirmi. Non riusciva a trovare la strada. Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente? Perché non riuscivi a trovare la strada? Perché non riuscivi a capirlo? Non sono riuscito ad arrivare puntualmente. Perché l'autobus non veniva. Non sono riuscito a trovare la strada. Perché non avevo la pianta della città. Non sono riuscito a capirlo. Perché la musica era troppo alta. Perchè non avere la strada? 50 Languages Telefonare Ho telefonato Ho telefonato per tutto il tempo Chiedere Ho chiesto Ho sempre chiesto Raccontare Ho raccontato Ho raccontato tutta la storia Studiare Ho studiato Ho studiato tutta la sera Lavorare Ho lavorato Neno Ho lavorato tutto il giorno Ho mangiato Ho mangiato 50 Languages Lavorare 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 Ho letto Ho letto Tutto il romanzo Lo 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 sapevo Lo 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 scrivo L'ho scritto Lo 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 Ho sentito Ho sentito Vado Vado Lo 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 50 Languages 85 Yane bhai ai du Domande Passato Uno Presnelu Bhoota Kalam Bokati Quanto ha bevuto? Meri ente thagaaru? Quanto ha lavorato? Meri ente pannicei galigaru? Quanto ha scritto? Meri ente rai galigaru? Come ha dormito? Meri yala padukunnaru? Come ha fatto a superare l'esame? Meri pariksha yala pasaiaru? Come ha fatto a trovare la strada? Meri dove yala kanukunnaru? Con chi ha parlato? Meri yavarito matladaru? Con chi ha preso appuntamento? Meri yavarito kalisaru? Con chi ha festeggiato il compleanno? Meri yavarito kalisijan madenani jarpukunnaru? Dov'è stato? Meri yakkadu gunnaru? Dove ha abitato? Meri yakkadu vunde varu? Dove ha lavorato? Meri yakkadu panicese varu? Che cosa ha consigliato? Meri yemi sojistaru? Che cosa ha mangiato? Meri yemi tinnaaru? Che cosa è venuto a sapere? Meri yemi anubhavinciaru? A che velocità è andato? Meri yenta veganga bandi ne nadiparu? Quanto è durato il volo? Meri yenta seppe yegaragaligaru? Fino a chi altezza è saltato? Meri yenta paike yegaragaligaru? FIFTY LANGUAGES Ottantasei Yenabhai yaru Domande passato Due Presnelu bhootakalan rendu Che cravatta hai indossato? Meri yeta hai kattu kunnaru? Che macchina hai comprato? Meri yekaar kunnaru? A che giornale ti sei abbonato? Meri yesa majaar patrantees kunnaru? Chi ha visto? Meri yavarini cjoozaru? Chi ha incontrato? Meri yavarini kalissaru? Chi ha riconosciuto? Meri yavarini gurttu pattaaru? Quando si è alzato? Meri yeppudu lecciaaru? Quando ha cominciato? Meri yeppudu bayelderaru? Quando ha finito? Meri yeppudu moginciaaru? Perchè si è svegliato? Meri yeppudu lecciaaru? Perchè è diventato insegnante? Meri yeppudu addhiaa pakudu, addhiaa pakuralu, aiaaru? Perchè ha preso un tassi? Meri yeppudu taxi ti iskunnaru? Da dov'è venuto? Meri yekkadu nondi vacciaru? Dov'è andato? Meri yekkadu ki bellaru? Dov'è stato? Meri yekkadu unnaru? Chi hai aiutato? Meri yavarike sahaian ceisaru? A chi hai scritto? Meri yavarikei vutturan rasaaru? A chi hai risposto? Meri yavarikei javabu rasaaru? FIFTY LANGUAGES OTTANTA SETTE YENABHAI YEDU PASSATO VERBI MODALI UNO BWUTA KALANLO SAHAIKA KRIELU VOKATI Abbiamo dovuto innaffiare i fiori MEMU CETLIK NILU POI ALSI VACCINDI Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento MEMU APARTMENTNI SOBRAPARACIA ALSI VACCINDI Abbiamo dovuto lavare i piatti MEMU GINNEL NIL TOMALSI VACCINDI Avete dovuto pagare il conto? MIKU BILI CELLINCIA VALSI VACCINDA Avete dovuto pagare l'ingresso? MIKU PREVESEROSUM CELLINCIA VALSI VACCINDA Avete dovuto pagare una multa? MIKU GERIMANA CELLINCIA VALSI VACCINDA Da chi ha dovuto accommiatarsi? Yavarike vello stana n'inceppa alSI VONDI Chi ha dovuto andare a casa presto? Yavarike inti che tondurga vello alSI VONDI Chi ha dovuto prendere il treno? Yavarike il tren andu kovalsi VONDI Non volevamo restare al lungo MIKU INKA IECKUVU SEPPU UNDAL NANU PINCEDAM LEDU Non volevamo bere niente MIKU INKA IEMI TAAGAL NANU PINCEDAM LEDU Non volevamo disturbare MIKU MIMANNI KALATTE PETTAAL NANU PINCEDAM LEDU Volevo solo telefonare NENI IPPIDI VOKKA KOL CESKONDAMAN ANU KUNNANU Volevo chiamare un TASSI NENI IPPIDI VOKKA TACSI NI PILLUDDAMAN ANU KUNNANU Infatti volevo andare a casa PENSAVO CHE TU VOLESSI TELEPHONARE A TUA MOGLIE MIKU IBAARIAKU KOL CESKONDAMAN ANU KUNNTA PENSAVO CHE TU VOLESSI CHIAMARE LE INFORMAZIONI MIKU SA MA CERA CHE ENDRANIKI KOL CESKONDAMAN ANU KUNNTA PENSAVO CHE TU VOLESSI ORDINARE UNA PIZZA MIKU MIKU KAPPI GIANI TE PINCEDAMAN ANU KUNNTA FIFTY LANGUAGES OTTANTOTTO YENABHAI YENIMIDI PASSATO VERBI MODALI DUE BHUTA KALANLLO SAHAIKA KRIYALU RENDU MIYO FIGGLIO NON VOLEVA GJOCARE CON LA BAMBOLA MA ABBAIKI BOMMATO AADUKOVANIN LLEDUTA MIYA FIGGLIA NON VOLEVA GJOCARE A PALLONE MA MAIKI FOOTBOL, SOCCER AADUKOVANIN LLEDUTA MIYA MOGGLIA NON VOLEVA GJOCARE A SCACCHI CON ME NAH BHARIKI NAHTO CESSAADALIN LLEDUTA I MIEI FIGGLI NON VOLEVANO FARE UNA PASSEGGIATA MA PILLALUKI WALKING VELLALIN LLEDUTA NON VOLEVANO RIORDINARE LA CAMERA VALEKI GADISUBRANCEIALANI LLEDUTA NON VOLEVANO ANDARE A LETTO VALEKI NIDDRA POVALEANI LLEDUTA LUI NON POTEVA MANGIARE IL GELATO LUI NON POTEVA MANGIARE IL CIOCOLATO LUI NON POTEVA MANGIARE LE CARAMELLE AUTANNU SWEET TENNA DAANI KI ANUVATINCA BADALEDU HO POTUTO ESPRIMERE UN DESIDERIO NON NON VOLEKKA KORIKA KORA DAANIKI ANUVATINCA BADALEDU HO POTUTO COMPRARMI UN VESTITO Ho potuto prendere un cioccolattino Potevi fumare in aereo? Potevi bere la birra in ospedale? Potevi portare il cane in albergo? Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori. Loro potevano giocare a lungo nel cortile. Loro potevano restare svegli fino a tardi. Chala sveppu meilu kore ndrako vahala nè anuma tii inchara? FIFTY LANGUAGES OTTANTA-NOVE IMPERATIVO UNO Tu sei così pigro, non essere così pigro Tu dormi tanto, non dormire tanto Tu arrivi così tardi, non arrivare così tardi Tu parli così a bassa voce, non parlare così a bassa voce Tu lavori troppo Non lavorare tanto Tu vai troppo forte, non andare così forte Si alzi, signor Mueller Sia comodi, signor Mueller Resti seduto, signor Mueller Abbia pazienza Faccia con comodo Aspetti un momento Faccia attenzione Già gratta Sia puntuale Non sia stupido Mandapuddika undeddu Copyright Good if the luck FIFTY LANGUAGES Un audio corso gratuito in numerose lingue Snanam Snanam ceyendi Pettinati Gjuttu duvukondi Telefonami Mi telefoni Phone call ceyendi Comincia Comincia Cominci Prarambhincendi Smettila La smetta Agandi Lascia stare Lascia stare Lascia stare Lascia stare Lascia stare Voduley Dì questo Dica questo Dica questo Ceppandi Comprà questo Comprì questo Conendi Non essere mai disonesto Non essere mai impertinente Non essere mai scortese Sì sempre sincero Sì sempre carino Bùon Ritorno A casa Abbia cura di sé Ritorni a trovarci presto Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi 50 Languages 91 Frasi secondarie con che? 1 Forse domani il tempo sarà migliore Bhoza repubata varanam bagu paduttundi Come fa saperlo? Adi meeku yella tilsu? Spero che migliori Adi bagu paduttundi nì asistu nnànu Viene sicuramente Āyana tappakunnda vosttharu È sicuro? Idì khacciitama So che viene Āyana vosttharu nì nāku telsu Telefona sicuramente Āyana tappakunnda kōlcestaru Veramente? Nijanga? Credo che telefoni Āyana kōlcestaru nì nè nammu tunnanu Il vino è certamente invecchiato Viene tappakunnda pātadi Lo sa di sicuro? Mieke yedi khacciitanga telsa? Suppongo che sia invecchiato Yedi pātadani nè nannu kūtunnanu Il nostro titolare ha un bell'aspetto Manna āyana āyana āndanga kāne pistaaru Lei trova? Mīkua āna āna pisto nda? Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto Nāku āyana cā āna āndanga kāne pistaaru Il titolare ha certamente un'amika āyana 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 ātappakunnda vokas nehi hitralu gundi Lo crede veramente? Mēr e nni jangā ālā ānu kūtunnanāra? È molto probabile che abbia un'amika āyana ākhi vokas nehi hitralu un'de tannu sambhāvjame FIFTY LANGUAGES NOVANTA DUE TOMBHAI RENDU FRAZI SECONDARIE CON KE DUE SAHAYAKA UPPOVAHKYAALU RENDU Mī SECCKA CHE TU RUSSI Mīru GURKA PEDHUTAARANI Nā KOPANGA UNDHI Mī SECCKA CHE TU BEVA TANTA BIRRA Mīru GURKA PEDHUTAARANI Nā KOPANGA UNDHI Mī SECCKA CHE TU VENGA KOSI TARDI Cāla āLASIENGA VASTAARANI Nā KOPANGA UNDHI Credo che abbia bisogno di un medico Credo che sia malato Credo che adesso dorma SPERIAMO CHE SPOSI NOSTRA FIGLIA SPERIAMO CHE ABBIA MOLTI SOLDI SPERIAMO CHE ABBIA MOLTI SOLDI SPERIAMO CHE SIA MILIONARIO Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente Ho sentito che è all'ospedale Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta Mi fa piacere che sia venuto Mi fa piacere che abbia interesse Mi fa piacere che voglia comprare la casa Temo che l'ultimo autobus sia già passato Temo che dobbiamo prendere un tassì TEMO DI NON AVERE DENARO CON ME 50 LANGUAGES 93 FRAZI SECONDARIE CON SE SAHAYAKA UPPOVAHKYAALU VOKA VELA NON SO SEMI AMA NON SO SE RITORNA NON SO SE MI TELEPHONA MI CHIEDO SE MI PENSI MI CHIEDO SE ABBIA UN'ALTRA MI CHIEDO SE MENTA MI CHIEDO SE MENTA MI CHIEDO RATI MI CHIEDO CHEK MI CHIEDO MI CHIEDO Chissà se mi ame veramente. Chissà se mi scrive. Chissà se mi sposa. Chissà se mi sposa. Novantaquattro. Congiunzioni. Uno. Aspetta finché smette di piovere. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché lui torna. Aspetto di avere i capelli asciutti. Aspetta finché il film sia terminato. Aspetta finché il semaforo sia verde. Traffic light green aienta varakko nien agutanu. Quando vai in vacanza? Ancora prima delle vacanze estive? Sì, prima che comincino le vacanze estive. Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. Lavati le mani prima di sederti a tavola. Chiudi la finestra prima di uscire. Quando vieni a casa? Dopo le lezioni? Sì, dopo che le lezioni sono finite. Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare. Dopo aver perso il lavoro è andato in America. Dopo esser andato in America è diventato ricco. Dopo esser andato in America è diventato ricco. Dopo esser andato in America è diventato ricco. 50 Languages 95 Congiunzioni 2 Da quando non lavora più? Da dopo il suo matrimonio? Sì, lei non lavora più da quando si è sposata. Da quando si è sposata non lavora più? Da quando si conoscono sono felici? Da quando si è sposata non lavora più da quando si è sposata. Quando si è sposata? Da quando si è sposata in America. Da quando si è sposata? Quando si è sposata? Lei telefona mentre guida. Lei guarda la tv mentre stira. Lei ascolta la musica mentre fa i compiti. Non vedo niente se non metto gli occhiali. Non capisco niente se la musica è così forte. Non sento odori quando ho il raffreddore. Se piove prendiamo un tassi. Se vinciamo all'otto facciamo il giro del mondo. Se non arriva presto, cominciamo a mangiare. Non vedo niente se non metto gli occhi. 50 Languages Novanta-sei Tongbhai-aru Congiunzioni Tre Samuccia-yam-modu Mi alzo appena suona la sveglia Alaram-bogine ventanei nienle estanu Mi stanco appena inizio a studiare Nienu c'adu-kauan nanu koganei alzi potanu Smetto di lavorare appena faccio 60 anni Nako arave ielu ragaare nienu paniccedam manestanu Quando telefona? Mery eppu'du call cestaru? Appena ho un momento di tempo Nako tierika dharkaganei Lei telefona appena ha un po' di tempo Aynaki konta samyendarkaganea in kall cestaru Quanto tempo lavorerà? Mery ente sepo panicestaru Lavorerò finchè potrò Nenu paniccei gargi nata seppu varakku nien cestanu Lavorerò finchè sarò sano Nenu aaroghya nga unnanta varakku panicestanu Sta a letto invece di lavorare Ayni paniccei daniku badulu manccellu padukkuntaar Lei legge il giornale invece di cucinare Lui sta al bar invece di andare a casa A quanto so Lui abita qui A quanto so Sua moglie è malata A quanto so Lui è disoccupato Non mi sono svegliato in tempo Altrimenti sarei stato puntuale Nenu aaroghya nga unnanta varakku nianu Lekha po te samayaanika unnade varakku nianu Avevo perso l'autobus Altrimenti sarei stato puntuale Nenu bus ekkha lekkha poianu Lekkha po te samayaanika unnade varakku nianu Non trovavo la strada Altrimenti sarei stato puntuale Naku dove cani picccelledu Nenu tappi poianu Lekkha po te samayaanika unnade varakku nianu Nenu tappi poianu Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento Il televisore era acceso Tuttavia si è addormentato Era già tardi Tuttavia è rimasto ancora Avevamo un appuntamento Tuttavia non è venuto Sebbene non abbia la patente guida la macchina Sebbene la strada sia gelata lui va forte Rooddu giàaruga unnade varakku Sebbene sia ubriaco Sebbene sia ubriaco lui va in bicicletta Aina mandu tappi poianu Aina mandu tappi poianu Aina aina cycle tappi poianu Non è la patente Tuttavia porta la macchina Aina aina mandu tappi poianu La strada è gelata Tuttavia va forte Rooddu giàaruga unnade varakku Aina vegan ga bandu Lui è ubriaco Tuttavia va in bicicletta Aina taghi unnade varakku Aina bike Sebbene sia laureata Non trova un posto Sebbene abbia dolori Non va dal medico Sebbene non abbia soldi Compra una macchina Aime vadda dabbu leka poianu Aime car kondi È laureata Ciò nonostante non trova lavoro Aime college iku vellindu Aina padikki Aime kii uddiogon dora kaledu Lei ha dolori Ciò nonostante non va dal medico Aime nupito undi Aina padikki Aime doctor vaddakku velladu Lei non ha soldi Ciò nonostante compra una macchina Aime vadda dabbu leku Aina padikki Aime car kondi 50 Languages Novantotto Tombhai enimidi Congiunzioni coordinative Gente samhyo jokalu Il viaggio è stato bello ma faticoso Il treno era in orario ma affollatissimo L'albergo era accogliente ma troppo caro Lui prende o l'autobus o il treno Aime bus su leda tren ekkutaru Lui viene o stasera o domani mattina Aina i saientran leda repuden ravacciu Lui abita o da noi o in albergo Aina matu leda hotel lo nevasestaru Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese Aime spanish to saha english kuda matlar tundi Lei ha vissuto sia a madrid che a londra Aime madrid to saha london lo kuda nevasin cindi Lei conosce sia la Spagna che l'ingilterra Aime kis spainto saha England kuda telissu Lui non è solo stupido ma anche pigro Aina murkdei kadu baddakastudu kuda Lei non è solo karina ma anche intelligente Aime andamainite kakka televenite kuda Lei non parla solo tedesco ma anche francese Aime germane kakka french kuda matlar tundu Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra Nen piano gani, guitar gani va in celenu Non so ballare né il waltzer né la samba Nen vault kani, samba kani c'è ilenu Non mi piace né l'opera né il balletto Nako opera kani, bale kani nacchadu Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa Vaya sa perigutinna koddi, vullo sa vantanga taayara uutaru 50 languages Novantanove Tom bhai tommidi Genitivo Seshti vi bhakti La gatta della mia amica Nas nehi tira le pilli Il cane del mio amico Nas nehi tini kukka I giocattoli dei miei bambini Na pille la bommalu Questo è il cappotto del mio collega Idi nasa huddiogu yokka kotu Questa è la macchina della mia collega Idi nasa huddiogu yokka karu Questo è il lavoro dei miei colleghi Idi nasa huddiogu yokka pani Il bottone della camicia si è staccato La chiave del garage si è persa Il computer del titolare è guasto Ia giamani yokka computer pani cedan ledu Chi sono i genitori della ragazza? I ammai talli danru li avaru? Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? La casa è in fondo alla strada Come si chiama la capitale della Svizzera? Qual è il titolo del libro? Come si chiamano i bambini dei vicini? Quando sono le vacanze estive dei bambini? Pillele chi sellevalu eppudu? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? Docter sampradiempu samayam eppudu eppudu? Qual è l'orario di apertura del museo? Museum yenni gantellegu terustaru? 50 Languages Cento Vanda Avverbi Kriyavisessionam Già una volta Non Mai Intakumundu Ippadivarku ledu E' già stato a Berlino una volta? Mere intakumundupe Berlin voccara? No Non ci sono mai stato Ledu Ippadivarku raledu Qualcuno Nessuno Yavaro vakaru Yavaru kadu Conosce qualcuno qui? Mere intakumundu Mere intakumundu Ippadivarku Ippadivarku No Non ci restu Più tanto Ledu Nenu ikkada ekkumse pundu Ancora qualcosa Più niente Ma Mare edena Inka yemi ledu Vuole bere Ancora qualcosa? Mere intakumuna Tagadalicara? No Non voglio Più niente Voddu Naki intakumuna Voddu Già qualcosa? Mere intakumuna Pee yemena Tinna No Non ho mangiato Ancora niente Ledu Neni inka yemi ten ledu Ancora qualcuno Nessuno Mare o karu Yavaru kadu Qualcuno vuole Ancora un caffè? Inka yavaru kena coffee kawala? No Nessuno Voddu Yavaru ki buddu